Accanto a me una grandissima attrice italiana, Monica Scattini, benvenuta in Sicilia. Grazie, per me è un piacere essere qui, poi in questo posto particolarmente perché è bellissimo. Vuoi sapere cosa faccio nel film, forse? Allora io sono Virginia, sono un'infermiera di un professore che è un po' la voce narrante di tutto il film, quello che racconta la storia che è non vedente e io lo accudisco, sono lì con lui, sono diciamo forse una donna che ha avuto una storia d'amore, qualche storia d'amore è andata male, per cui un po' delusa, un po' che non crede più in niente e si dedica quindi a questo uomo anziano e invece improvvisamente quell'estate anche per lei scatta il bacio salato perché incontra questo playboy, questo gagà così un po' debosciato, però un bell'uomo che la guarda con gli sguardi così fulminanti, per cui lei scappa con lui, avrà questa storia che poi finirà come tutte le altre storie. Non bene, ma questo non ce ne importa perché questo film è una commedia, è molto divertente, questa ambientazione degli anni Sessanta è molto bella perché era un periodo dell'Italia dove si sognava molto, c'erano le speranze, il boom economico, per cui forse ambientato oggi una storia del genere non avrebbe senso, invece allora tutto aveva un senso, quindi le storie d'amore, i tradimenti, le corna, sono tutti quanti molto bravi, sia gli attori siciliani che sono qui che sono tutti straordinari, che tutto il resto del cast, insomma io sono molto contenta. Baci salati, prossimamente al cinema, non potete perderlo, ognuno di noi darà un bacio salato.